Password Viaggi in un mondo veloce che fatico a capire, ma se mi aiuti tu, ti resto accanto, qual è la password? Poi ogni tanto spegnavo il cellulare e parliamo con le parole, abbracciamoci, sorridiamoci, gridiamoci contro, basta che sia tutto reale e non impalpabile e astratto, nascosti dietro un video freddo e rinchiuso dietro una password.